L'ultimo episodio Sono pazze quelle anatre Sì, d'accordo Quali anatre? Quelle! Quelle! Non le vede? Mi hanno attaccata Non sono anatre quelle Sono oche I maschi sono aggressivi Anche a me è capitato 22 punti di sutura L'unica soluzione è umiliarle Come umiliarle? Lei le prende per il collo e gli mette il becco nel culo Loro si sentono umiliate e la smettono di rompere Ma il becco va infilato proprio tutto Rischioso ma funziona È chiaro, ho capito Cosa? Ma perché fa così? Perché mi tratta male? Via di qua bestiocci Che non è giornata Sparito mi tiro il collo Grazie a tutti Grazie a tutti